Sul nostro blog vogliamo condividere ciò che sta succedendo in Nice Quit e farvi sbirciare un po' dietro le quinte Naturalmente tutto gira intorno al concetto Nice e quindi vi racconteremo storie positive, divertenti che vi faranno ridere e che vi faranno anche riflettere Un'altra cosa di cui siamo davvero entusiasti sono i risultati delle nostre campagne di donazione Collaboriamo con varie associazioni di beneficenza in tutto il mondo Per esempio prendiamo la Croce Rossa Abbiamo collaborato con la Croce Rossa messicana durante i terremoti del 2017 che hanno colpito le varie regioni del Messico Con questo specifico progetto abbiamo ricevuto una lettera di ringraziamenti del direttore della Croce Rossa in persona Sul nostro blog condividiamo questo tipo di storie per farvi conoscere realmente chi aiutiamo e cosa facciamo grazie alle vostre donazioni Come già sapete Nice Quit è una community e tutti insieme possiamo creare grandi cose Per questo usiamo il nostro blog per conoscerci un po' meglio Fateci sapere cosa ne pensate dei nostri articoli scriveteci nei commenti con le vostre idee e le vostre opinioni Non vi abbiamo incuriosito? Allora andate subito a dare un'occhiata al nostro blog Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti